e non ci sono e non ci sono quando faccio quella colazione 10 e mezzo a 11 non mangio un pezzettino di pezza e basta tirava per piacere va bene signora? si va bene ma si apri le cose però va bene grazie Vittore aspetta grazie grazie via Settevani via Settevani siamo vediamo se dalla torre siamo meno noi io non metto la torre e poi metterà ora adesso vi porto dentro la torre vi faccio vedere vi faccio pure affacciare diciamo del terrazzo della torre di Pisa perché la vedete un po' inchinata non però così io vi do che devo fare ciao 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 buona ciao